Ed eccoci qua, uno scugnizzo napoletano, ti piace? Sì, diciamo che il nome è un po' di tutti i napoletani, perché siamo tutti quanti scugnizi in questa città, quindi... Un vero scugnizzo napoletano ed ecco a voi, Pino Giordano. Come stai? Tutto bene, grazie a te. Infatti è caldo, è tremendo però, benissimo. La notte si dorme? No, assolutamente no, è buono mio. È inutile nemmeno a dirlo, però andiamo avanti. Però sono belle soddisfazioni della vita. Sono belle in notte, sono belle in notte perché tante persone fanno in notte chi ha ballato, chi ha ballato, chi ha ballato, chi faccio figlio, quindi... È come giusto sia. Una cosa più bella che ci sia al mondo. Perché che lì la vedi a ballare già l'hai fatta. Già l'hai fatta, sono passate e strapassate, quindi adesso mi godo la mia bella famiglia. Ed è giusto. Allora Pino, che cosa ci fai ascoltare? Io tremmo ancora, no, con questo caldo, perché non si può trasmare questo caldo, però è una bellissima canzone che sta andando per la maggiore e mi sta dato tante soddisfazioni. A me e all'autore Francesco Franzese che mando un bacio, nonché all'arangiatore Nino Danisi. Qualcosa che bolle in pentola che possiamo sapere? Quando tutto ha la pasta ti faccio sapere, vai piano, vai piano, vai piano. Quindi no, mi ha stroncato sul nascere e quindi dobbiamo ascoltare solo questo brano. Ho fatto un'intervista proprio rapida oggi. Bella, bella, scelta di anche i seri. Dobbiamo ascoltare questo brano, ascoltiamolo, ascoltiamo e noi vi salutiamo così, perché noi siamo quelli di... Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Cantiamo Napoli! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.